L'Italia ha un'emergenza, la corruzione. Questa emergenza la possiamo contrastare con le leggi, ma anche con gli atteggiamenti delle forze politiche. Allora, di fronte a questa emergenza, io non voglio accusare questa o quella forza politica, voglio fare un appello all'unità. Alziamo un muro contro la corruzione anche nel modo di gestire le nostre forze politiche. Da noi, chi sbaglia è fuori in 30 secondi. Fate la stessa cosa anche voi. Lo dico al PD, lo dico a Zingaretti, metta fuori dal suo partito e ne chieda le dimissioni del governatore della Calabria. Lo dico a Forza Italia di espellere tutti i coinvolti nell'inchiesta di corruzione lombarda. Dico a Fratelli d'Italia di chiarire su questo presunto finanziamento illecito. E faccio un ultimo appello, nelle ultime ore prima del Consiglio dei Ministri, alla Lega di far dimettere Armando Siri e non arrivare alla conta in Consiglio dei Ministri. Io non esulto mai quando qualcuno va in carcere o quando qualcuno finisce per colpe in prigione. Ma dobbiamo dirci anche che se oggi in Italia chi viene condannato per corruzione come formigoni va in galera, è grazie alla legge spazza corrotti. Siamo stati descritti e siamo descritti tuttora come movimento di rompiscatole, di esagerati. Ma poi i rompiscatole salvano la faccia delle istituzioni. Anzi, sarebbe anche il caso di dare qualche spiegazione su questo mutuo da 500 mila euro di San Marino con cui si compra un edificio intero. Perché tutti gli italiani provano a farsi un mutuo, ma a nessuno concedono un mutuo di 500 mila euro senza scrivere neanche l'ipoteca sull'immobile acquistato. Di questo stiamo parlando quando parliamo della vicenda che probabilmente domani finirà in Consiglio dei Ministri. E grazie al fatto che questi rompiscatole hanno la maggioranza assoluta del Consiglio dei Ministri eviteremo a questo Governo di fare come tutti i precedenti. Cioè di tenersi esponenti politici che al di là delle inchieste hanno portato avanti condotte politiche che non sono assolutamente tollerabili.